Hey ragazzi, ciao a tutti e ben tornati qua su Farming Simulator 17 ma basta ben back Ragazzi, come potete notare il deposito è un bel po' pieno Purtroppo non ce l'ho fatta a riempirlo di più Perché il cassone non era proprio buono buono E perché insomma si sparpaglia un po' troppo facilmente Anche se, come potete notare, mi sono un po' attrezzato Ho preso a noleggio questa livellatrice E stavo un po' a dare una piccola sistemata Però c'è un piccolo problema, la roba rischio che la butto fuori Quindi devo stare un po' attento Comunque sia raga, abbiamo finito col cippato Ho già restituito la cippatrice, ho già restituito il mega cassone E stavo giusto a dare una piccola sistemata qui al mucchietto Anche se appunto vi dicevo non è che è proprio semplice semplice Si fa soltanto un mucchio di fatica ma non riesco a risolvere molto Difatti mi sa che è meglio se lascio perde Comunque raga, purtroppo ho perso il raccolto Quello che avevo nel silos Ricordate la mod quella che ho provato, quella del triciclo Quella mod mi ha praticamente rovinato mezzo mondo Perché avevo perso tutti i mezzi E in più ho notato che ho perso appunto tutto il raccolto Difatti avevo 17.478 di frumento Avevo 5.973 di colza E avevo 8.989 di orzo Tutto perso Tutto perso per colpa di quella mod E allora come facciamo a sistemare questo problema? Beh non c'è soluzione A parte che al massimo faccio finta che ho venduto la roba E mi aggiungo i soldi della vendita È l'unica cosa che posso fare Diciamo Non c'è soluzione Dovrei aggiungermi questi soldi a parte Modificando il salvataggio del gioco E ovviamente non mi va di perdere tutto quel bel raccolto sudato Però non mi va di aggiungere adesso questi soldi Praticamente aspetterò il momento giusto Quindi il giorno 3 di giorno 3 dell'inverno E a quel punto mi aggiungerò i soldi tramite l'editor Non c'è soluzione E ovviamente non mi va di perdere ancora altri soldi Ne ho già perso un po' troppo in questa serie Veramente un po' di soldi buttati A parte questo raga A parte questo niente Per il resto va tutto bene Anzi Come penso avete visto dal titolo Ho aggiunto un'altra auto da voi richiesta Uno di voi mi ha detto Nicchia perché non metti la 126 E ho pensato Beh bella idea Dai Bella idea In fondo ho bisogno di un mezzo per andare in giro Quindi Proviamo la 126 Auto Fiat 126 Però poi ho notato Che questa auto È fatta sempre da qualche tizio Non lo so Polacco Come anche il triciclo Io ho notato Che pure questa costa 2005 Ho pensato Per vedere che è lo stesso tizio Che ha fatto la mod Però ragazzi Io la mod l'ho già provata E non Non ho perso nulla Quindi penso che è una mod Abbastanza sicura Spero E allora Nicchia compra Finalmente Un'auto Per andare in giro Una bellissima 126 Ovviamente la voglio gialla Lasciamo la configurazione standard Anche perché non ci capisco niente Quindi la compro 2.900 euro E boom E Nicchia la sua 126 Gialla Come Come l'avatar di Nicchia Naturalmente No Se era per poddy La pigliavo verde Ma siccome la mia La piglio gialla Ed è comunque carina È carina pure gialla Ragazzi È un bel colore Dai Mi piace Mi piace Allora Che se fa Dobbiamo portare il trattore A casa Ovviamente Ho messo il pre Ho messo il peso dietro Vabbè lo sapete Perché Stavo ad utilizzare Livellatrice Allora Accendiamo Oh Che bella La mia 126 Ragazzi Allora Mo' diciamo Al trattore Che deve seguire La macchina Mi raccomando Trattore Non fare danni Che la macchina È nuova Andiamo Andiamo Oh cavolo Ho sbagliato tasto Andiamo Comunque raga Anche se questa macchina Ha pochi cavalli Anche se ha pochi cavalli Però Fa 86 km orari Che non è affatto male Per andare in giro In questo paese È più che sufficiente Passo io Va bene Andiamo Eh Se no per il trattore Rimaneva bloccato Pure lui Bella raga C'ho pure la targa Polacca C'ho pure la targa Polacca Vediamo le frecce Oh yeah E là Vasti i fari raga Gira 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 Ma accendiamo la freccia Per andare a sinistra Aspettiamo che passa La signorina Signorina Vuole un passaggio No Non gli piace La mia macchina È un po' vecchia Per i suoi gusti Eh ma lei non capisce Signorina Non capisce Andiamo Allora Io mo' un attimo Parcheggio qua Perfetto Allora Grazie Collega Ti ringrazio Il trattore Per il momento Non serve Quindi Dove lo metto Quasi quasi Lo parcheggio Lì nel deposito Dei maiali Che non ho Quasi quasi Per il momento Lo metto qua Per ora Lo posso parcheggiare Tranquillamente Qua dentro All'asciutto Ok Allora ragazzi Quindi che cosa Possiamo fare I miei terreni Li ho già lavorati Quindi l'unica cosa Che posso fare Per guadagnare Un po' di soldi È andare a lavorare Per qualcun altro Quindi andiamo a lavorare Per qualcun altro Così sfruttiamo Anche la mia nuova auto D'altronde Io la macchina L'ho comprata Proprio per andare in giro Non è che l'ho comprata Così tanto Per tenere la ferma Quindi Quindi andiamo Da qualcun altro E vediamo se c'è Oh guarda Che fighissimo Raga Ho acceso La freccia E qua dentro Mi si è acceso Un Il lampeggiante Lì no Insomma Mi indica L'indicatore Che mi sta A di che ho acceso La freccia Com'è nella realtà D'altronde Troppo figo E per i fari pure Sì C'è pure per i fari Raga È fighissimo E le quattro frecce Anche Magnifico Fighissimo Raga Allora Dov'è che posso Lavorare Aspettiamo un attimo Che questa passa Signora Lei teoricamente Non può passare Perché non ci stanno Le strisce platonali Qua Allora Qui non c'è niente Da fare A meno che Non posso Fa qualcosa Non lo so Proviamo un attimo A parcheggiare Qua Lasciamo la macchina Qui raga E se magari La metto al fresco Quasi quasi Raga La macchina La metto al fresco Oh Oh Ma finì che cade C'ho una ruota Alzata Lol Ok La tengo qua Al fresco Buono Cavolo Qui Secate Vabbè Diciamo che è metà Al fresco Dai Raga Per metà La mia auto È al fresco Non è in galera Però Allora Devo quindi Lavorare Ragazzi C'è qualcosa Uuu Ma con sto coso Ci metto 20 anni Ecco Famo con questo Ok Vai Va bene Lavoriamo Ragazzi Bisogna Lavorare Per guadagnare Credo No Che è un fiat No ma sei Ferguson Ah però Mi hanno dato il pesetto Teoricamente Questo è il pesetto Del fiat Togliamo sta mappa Che mi da solo Fastidio E il pesetto Non riesco A prenderlo Come mai Il pesetto Non lo prende Anche qui Prende Ma qui No Mi sa che Mi hanno dato il peso Sbagliato Ragazzi Fa niente Speriamo Allora A meno questo Lo prendo Bene Figo però Questo trattore Non l'ho mai provato Vediamo un po' Allora Accendi S parte Accidente È sempre complicato Guidare bene Ok raga E quindi Niente In estate Non ho molto Altro da fare Ho già lavorato I miei terreni Li ho già Coltivati Li ho già Uno l'ho seminato E poi non c'è Altro da fare Ho già fatto Il cippato In estate Teoricamente Non c'è altro da fare Al massimo Per l'appunto Posso fare Qualche lavoretto Per gli altri Per chi ancora Non ha fatto Quello che ho fatto io E quindi Vado a fare Proprio questo Vado a fare Proprio questo Ma qua È un problema Giriamo Stavo per sbattere Ma non è successo Bello però Anche qui abbiamo L'orologio interno Sono le ore 17 e 19 Quindi Non ho molto tempo Prima che poi Fa buio Oltretutto Ancora oggi Deve piovere E non è successo E ancora Non ha buttato Manco una goccia D'acqua A meno che Il gioco Non inizia a fare Come nella realtà Che dicono Oggi piove E poi non piove Dicono Oggi c'è il sole E poi piove Non si capisce mai Se piove O meno Non si capisce mai Ma che razza Di ruote Che c'ha davanti Però sono fighe Sono molto belle Gira 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 Dai E raga Comunque Ancora Ancora Cos'è Questione Di due mesetti E finalmente Esce farming 19 Non vedo L'ora Non vedo Proprio l'ora Che esce farming 19 Ormai Qui su farming 17 Non lo so Avrò accumulato Un 400 ore Più o meno Ah Comunque a proposito Ecco Ora che ci penso No Perché poi giustamente Nick pensa sempre Alle cose più brutte E magari vi state chiedendo Nick a cosa hai pensato E siccome Siccome vi ho detto Che ho accumulato 400 ore di gioco E stavo pensando Vabbè in 400 ore di gioco Ancora la gente Mi viene a dire Eh Nick Ma questo lo fai sbagliato Ma questo non lo fai sbagliato No E quindi ho pensato Che in 400 ore Ho imparato ben poco No Siccome nell'ultimo gameplay Mi avete detto Eh Nick Ma sai che il cingolato Nella strada Non può andare Dovevi prendere il carrellino Io raga Vi giuro Non lo sapevo Perché in vita mia Anzi in vita mia Non ho mai visto Un mezzo cingolato Figuratevi no Quindi non lo sapevo Non ci ho proprio minimamente pensato Però io Apprezzo il fatto Che me l'avete fatto notare L'apprezzo tantissimo E quindi la prossima volta Prenderò assolutamente Un carrello Per qualsiasi cingolato E insomma Si impara sempre qualche cosa Si impara sempre qualcosa Allora Vediamo un po' Manca poco Teoricamente E finisco E finisco qua di Di concimare Ancora un po' Ok Fatto raga 1270 euro Non so tanti A proposito Forse ho dimenticato di dirvelo Ma ovviamente Mancano i 5000 euro Per il noleggio Stagionale Del Del deposito Dove ho messo il cippato No? Quindi mancano anche quei soldi là Comunque Qui abbiamo fatto Aspetta vero Magari c'è qualcos'altro da fare Sì Ma sinceramente Me l'ho dato un coltivatore Ecco Magari un coltivatore Un po' più grande Perché non mi va Di starci vent'anni In questo campo A coltivare Tra poco Mi danno la zappa E mi dicono Te zappa Ancora con sto pesetto Ma che c'hanno La fissa Che ci devo fare Con sto coso Raga Ma guardate Guardate il trattore Guardate il peso Cioè Che è un peso più Ma Non serve a niente Che poi neanche riesco A prenderlo E qui è veramente Un po' sbilanciata La cosa Mi stanno a dare Cose inutili Speriamo che almeno Il coltivatore Non fa schifo Meno male Almeno quello Allora Ma tanto non serve Sto trattore E' una bestia Appunto Che se ne fa Del peso lui Se era magari Un coltivatore Più grande E allora Magari si Ma con sto Cosetto qua Qual è il problema Addirittura Io Il coltivatore Di Aspetta Il mio coltivatore Non è questo Di No Beh più o meno Il mio coltivatore Pure si apre E si chiude Ma più o meno La dimensione Quella è Che poi ancora Oggi deve piovere Ormai sta A fa buio Meglio così Che lavoro meglio Senza acqua E poi Non so neanche Se si possono Accendere i 3G Cristalli Qua dentro Non ho la più Palida idea Non l'ho mai Provato Non so neanche Se c'è un tasto Per accendere I 3G Cristalli Non lo so Magari se qualcuno Ti vuoi lo sa E me lo dice Ma che bella La mia 126 Oh Troppo bella Speriamo che non Se la rubano Raga Speriamo che non Se la fregano Speriamo che non Speriamo che non Ok raga Taglie che manca poco Certo non è che ci ho messo poco Ci ho messo un bel po' di tempo Raga E figuriamoci se Se pigliavo l'altro E' il primo Che mi stava a dar Ci mettevo un'eternità A finire Ma meglio così Va bene così Che poi Se ci vuole troppo tempo Va a finire Che mi addormento Andiamo dai E Azio Ho finito Dai Guarda qua T'ho lasciato Il triangolo Delle bermuda Andiamo Forza Cavolo A me Magri Che a me Danno Il peso Sbagliato Ora ragazzi So bene Che teoricamente Io questo peso Non lo posso prendere Perché non ho i ganci Adatti Però Se non lo prendo Sto peso Credo che non ce la faccia Asseminare Non ho scelto Ho bisogno Di un peso davanti Se no Questa seminatrice Detro Va a finire Che non ce la faccio Quindi anche se non è realistico Non ce posso far niente Perché Non ho scelto io Non ho scelto io Il peso Quindi Dobbiamo accontentarci E allora Seminiamo Seminiamo il mais Perché ancora siamo Nel periodo giusto Per seminare il mais Andiamo Bene Quanto meno Raga Lavoriamo sto terreno Dai Almeno guadagniamo Qualche spiccio Quanto meno Recupero Più o meno Recupero i soldi Che ho dato Al tizio del deposito Almeno quelli E poi raga In inverno Diciamo che Mi aggiungerò I soldi Per Aggiungerò I soldi Manualmente Per via del fatto Che quella mod Mi ha fatto perdere Mi ha fatto perdere Quella dannata mod Tutti Tutti Il mio raccolto Incredibile Oltre ai mezzi Mi ha fatto perdere Tutto il raccolto Che avevo Allora Andiamo Abbassa E famose Questa seminata Ma non riesco a capire Dove che Ah ok Mo' si vede Cerco di capire Dove che So già stato E dove no Ok No Piano piano Ce la facciamo Se metto questo Magari mi aiuto Un po' Così poi so Dove devo passare Mi è di aiuto Devo dire Allora Questo così Questo lo alzo Faccio il giro Mi posiziono Esattamente qua Bene Facciamo una buona manovra Qui apro Qui abbasso E riparto Teoricamente Mi basta Seguire Questa striscia Qui nel centro E basta che io Ci cammino Esattamente Nel centro Ed è fatta Solo che mo' qua Manca Però ne sto creando Un'altra Di striscia Dall'altra parte Così quando torno Indietro So dove devo passare A gire per di qua Perfetto Bene Alza Ah Ma non distruggo Il terreno Ah si si Lo distruggo Ok Evitiamo di distruggere I terreni Degli altri Naturalmente Ah Facciamo una buona manovra Ok E mo' Abbassa E vai Bene Mi basta guidare Quindi su questa striscia E non posso sbagliare Basta che guido Su questa striscia E faccio Un'ottima Seminata Senza errori Ok raga Finito 1567 euro Ok raga Ormai Che ora è 1746 Tra poco fa buio Boh Penso che per oggi Possiamo anche Concludere La giornata La giornata lavorativa Vai Tra poco Oh Oh E si è sgazziata Sta attendo No Stava a far danno Guarda Sono tutta la macchina sporca Oh Cioè la macchina Con le ruote È già sporche Certo L'ho parcheggiata L'ho parcheggiata Nel terreno Lì La sto già Sporca Però non si nota Moltissimo Lo sporco Sul colore Sarà perché È gialla Boh Andiamo Cammina Sei lento Uh che bello I specchietti Retrovisorio Fighissimo Allora devo andare Qua a sinistra E si va A casa Mo qua A destra Eccomi Piano piano Ok Dove la parcheggio Ah già Vero La posso mettere Qua dentro Ci entra Alla perfezione Anzi però Prima magari Gli do una lavata Che è sporca Dai la mia macchina Nuova Nuova Gli devo dare Una bella lavata La lascio accesa Tanto vai E un attimo Gli devo solo dare Una piccola Rinfrescata Ecco qua Giusto una piccola Rinfrescata Che è stata Un po' Sulla terra Ok Mo A posto Allora la vado Quindi raga A parcheggiare Qua Ci sta Alla grande Ok È protetta Dal sole Ragà Dalla neve Quindi Meglio di così Ok C'ha pure Il gancio Dietro C'è pure Il gancio Posso quindi Agganciare qualcosa Dietro Un carrellino È fighissimo Ragà E poi lo proveremo Poi ragà Proveremo Questa cosa Magari qua Però tutto Sto giallo Di sotto Magari lo potevano Fare un po' Diverso Potevano Potevano metterci Un po' Di nero Perché Non penso che Nella realtà È completamente Gialla Dappertutto Però vabbè Dai Comunque Va bene Lo stesso Dai Ok raga Quindi Vi stavo a dire Che purtroppo Non c'è rimasto Niente E teoricamente Doveva starci Qua dentro Diversa roba Quindi poi In inverno Ci metterò Venderò Farò finta Di vendere le cose Aggiungerò Insomma I soldi Tramite Modificanti E salvataggio Non c'è scelta Ma io Quel raccolto Che ho fatto Non lo voglio perdere Vabbè ragazzi Per il momento Concludo qua Spero che questo Che vi sia piaciuto Mi raccomando Come sempre Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel Pollicione in su Ci vediamo presto ragazzi Ciao alla prossima